Lo abbiamo detto subito, il Paese prima di tutto. Questa è e resta la nostra linea. Non si può però eludere, cari amici, cari compagni, il messaggio di fondo che ci è arrivato il 4 dicembre. È un messaggio che chiede una fortissima discontinuità, una capacità di comprendere ciò che è accaduto ed avere l'umiltà di ripartire con uno spirito diverso. Sinceramente, non credo che questo stia avvenendo. Vedo ancora troppa continuità e troppa arroganza. Non ci porta lontano la sicurezza di chi crede di avere in tasca il 40%. È un'illusione sbagliata e pericolosa che sembra quasi una sfida agli oltre 19 milioni di italiani che hanno votato no. Quasi come a dirgli avete sbagliato a votare, ora vi faccio vedere io. E sembra questo lo stesso spirito che anima l'annuncio del Congresso, una resa dei conti per un secondo plebiscito rivincita da parte del Capo irritato per l'esito del referendum. Un congresso serve come, facciamolo, presto, ma vero, sulla nostra idea di Paese, sul ruolo del PD in questo tempo. Un congresso che ci faccia confrontare sul serio e che ci rimetta in sintonia con il mondo fuori dal PD, fuori di noi. Un congresso che ci rimetta in sintonia con il mondo fuori dal PD.